Musica Senza illuminazione, in preda alle intemperie, agli allagamenti di campagne e strade, con la fogna che, soprattutto con le piogge, si intasa e provoca fuoriuscite di acqua malsana, che rende anche respirabile l'aria. Si sentono totalmente abbandonati gli abitanti di via Casina di Dentro, a Palombaio, che denunciano una situazione che va avanti da tanti, troppi anni. Le problematiche sono tante di questa strada, però la problematica più brutta è quella della fogna, perché Sgorga ce l'ha aperto, maggiormente da quando hanno fatto questo canale, una decina di anni fa, si ottura, maggiormente quando ci sono le piogge. Poi, quando ci passa il torrente, si accumula l'acqua della fogna con l'acqua piovana. Devi tenere per forza la macchina, parecchi anni fa hanno detto che ci doveva fare un ponticello. Quando piove, la strada che porta verso il centro della frazione diventa impraticabile e certe volte la potenza dell'acqua è tale da distruggere tutto quel che trova, a cominciare dalle inferiate che delimitano i fondi. Io mi ricordo una storia che diceva mia nonna, di quando un signore rimase arrampicato a una quercia, perché quando passò il torrente di qua, fu salvo anche per miracolo. Dagli acquitrini, inoltre, proliferano anche le zanzare, anche perché, come denunciano i residenti, non passano più neanche i mezzi per la disinfestazione. Per non parlare delle campagne, ormai incoltivabili a causa degli allagamenti di acqua malsana. Molti gli alberi ormai morti. Mi morirono oltre 30 piante di olive e adesso ho piantato le mandorle, fioroni, ma non si riesce. Qua non si... è incoltivabile proprio. Come se non bastasse a rendere la vita difficile per gli abitanti di questa zona e anche la mancanza di illuminazione pubblica, dal momento che i pali esistenti non funzionano. Parecchi anni fa hanno fatto un impianto sotto tracce e questo impianto non l'hanno finito fino alle ultime case ed è rimasto che cinque pali sono rimasti senza illuminazione. E qua la sera è brutto venire. Gli abitanti sperano che chi di dovere si adoperi finalmente per risolvere questi problemi, anche perché la strada è anche una zona di passeggio per tanti non residenti. Vengono i ragazzi con le bici, passano ciclisti, ci sono dei gruppi di signore che passano a passeggiare. Parecchi giorni non passeggiano, non vengono a camminare a fare la loro corsetta perché non si può passare proprio. C'è un incrocio che va a Bitonto e si chiama il percorso dei fiori che è un percorso bellissimo, però anticipato questo percorso da tutto questo non è bello vedersi.